E' il tanque, questo è il suo soprannome, di gran lunga, orecchiabile. Santiago Martin Oliveira Silva arriva a Firenze dal campionato argentino. Pochi conoscono la sua carriera, molti però sono già esaltati dalle sue esultanze dopo i gol segnati con Banfield e Velez nelle ultime due stagioni. Nato a Montevideo il 9 dicembre dell'80, il tanque si presenta come attaccante dalla rete facile, con 41 gol siglati appunto proprio nelle ultime due stagioni. Il neoquisto della Fiorentina ha svolto le visite mediche di rito per poi trasferirsi nella sede viola e firmare il contratto che lo legherà alla società gigliata. Che non sia proprio lui la vera corvinata di questo mercato? Chi lo sa, nel frattempo godiamoci reti e esultanze del nuovo attaccante della Fiorentina. Santa Maria A costsse una puntualona Oure La E Le Le E faccio comprare che la belle famiglia E se inizcitano Stefano affismati Salam Charles Salam reveal La 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti